e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi vi dico nella stessa frase due cose che non avrei mai pensato di dire insieme ovvero inflazione altissima oggi sono usciti i dati sul cpi tra poco li commentiamo insieme e pump in diretta che succede cosa sta succedendo sta impazzendo il mercato ha già apprezzato anche questa inflazione galoppante un dato come oggi io sinceramente mi aspettavo che avrebbe dato una martellata al mercato perché non solo è più alto delle aspettative ma è anche cresciuto cosa che vabbè era implicita perché già le aspettative erano più alte del valore dell'ultimo mese ha segnato nuovi massimi quindi l'inflazione non è ancora sotto controllo l'inflazione ancora crescente e quindi questo implica delle manovre della fed la necessità di manovre della fed ancora più forti per arginarla e questo di solito terrorizza i mercati tuttavia bitcoin oggi ha reagito per lo meno per ora positivamente lì per lì ha dampato istantaneamente nel momento di rilascio del dato non so se avete seguito un po le dinamiche del mercato di oggi c'è stato il dump proprio istantaneo un dumpino diciamo adesso damp sembrano i soliti damp di bitcoin in realtà ha fatto un meno 3 per cento era più 2 è arrivato a meno 1 quindi giù di lì ma subito in poco tempo guardate il grafico su time frame più brevi guardate tac c'è stato il dump nell'ora di rilascio del dato le 14 e 30 da bababam e poi guardate millimetrico sul supporto è ripartito e adesso ha riassorbito tutto il dump del rilascio del dato dell'inflazione cioè una cosa che sinceramente mi ha mi ha preso un po di contropiede io non sto operando in un mercato del genere proprio perché c'è veramente un tasso di imprevedibilità molto alto ma non manca mai di stupirmi c'è poco da fa andiamo a vedere il nasdaq giusto per vedere se anche lui si è comportato in modo simile guardate che roba pazzesco effettivamente è così il nasdaq e bitcoin sono a un livello di correlazione mai visto perché guardate di nuovo allora eccolo qua questa è la candela di apertura questa eccola ha aperto le 15 e 30 italiane no il dato è uscito alle 14 e 30 è uscito un'ora prima dell'apertura dei mercati statunitensi e di fatto aspettate che ok eccoci no non avevo visto di fatto quello che è accaduto è stato un apertura in negativo perché se vedete da qua a qua c'è più o meno avevo calcolato un meno due qualcosa ma poi pure il nasdaq si è ripreso guardate ha riassorbito tutto il dump fatto in apertura e bitcoin con esso quindi è sempre fortemente correlato al nasdaq ed entrambi hanno reagito in modo imprevisto secondo me al dato sull'inflazione che le attese erano dato sull'inflazione superiore alle aspettative quindi inflazione galoppante significa che appunto la fed deve spingere ancora di più quei tassi di interesse quindi i mercati patiscono dato sull'inflazione invece positivamente sorprendente quindi un dato più basso delle aspettative e magari anche più basso dell'ultima volta indicare un possibile top sul dato dell'inflazione beh sarebbe stato un qualcosa di estremamente positivo sul breve per i mercati il dato che è uscito guardate ve lo mostro questo è proprio un esploso di tutti i dati sull'inflazione statunitense il cpi il consumer price index per le varie categorie no quindi cibo energia items tutto meno cibo ed energia e e ci fa capire no gli aumenti dove sono stati maggiori l'aumento annuale l'ultima colonna chiaramente la commodity che è cresciuta di più di prezzo è tutto ciò che riguarda l'energia principalmente per il conflitto russia ucraina non certo per per ragioni della fed o dei tassi di interesse ma come vedete poi anche varie altre vari altri beni servizi e commodity sono aumentati di prezzo e il la media pesata su tutto è di 9.1 un aumento dell'1 e 3 per cento rispetto al dato del mese precedente e questo appunto avrebbe dovuto scuotere perché un'inflazione così alta non la si vede da 40 anni se non ricordo male negli stati uniti e questo che conseguenze ha beh a fine mese come sapete c'è il fomc che è la prossima data da tenere sotto controllo 26 27 luglio quindi tra una quindicina di giorni tra un paio di settimane saremo ancora qui ad aspettare cosa combina la fed ma dopo un dato così preoccupante ci si aspetta è lecito aspettarsi un intervento un po più forte infatti guardate questo è uno strumento che vi consiglio di monitorare della cmi in sostanza loro hanno una sorta di di future sul sul prossimo aumento di interessi della fed dove si può andare a stimare quindi quello che il mercato prezza come probabilità di esito dei vari esiti possibili no in particolare vedete al momento siamo a 150 175 1 50 1 75 per cento quindi di tasso di interesse e il prossimo vedete della del 27 di luglio mancano 14 giorni c'è anche il conto alla rovescia per chi proprio vive no per questi eventi ormai siamo siamo ridotti talmente male che siamo qui ad aspettare la fed che parla e guardate abbiamo il 40 per cento di possibilità di un aumento di 75 punti base da 150 175 225 250 il 60 per cento stima un aumento di 100 punti base c'è una manovra veramente forte e appunto nonostante ciò il mercato è in dopo un dump iniziale è in verde e la cosa è strana noi quindi viene da chiedersi ma il mercato ha iniziato già apprezzare ha finito un po di prezzare questa situazione è semplicemente impazzito non lo so è veramente un un dubbio lecito da da porsi secondo me perché come dicevamo anche nelle ultime live nelle ultime chiacchierate non è semplice il rapporto tra l'andamento del prezzo di bitcoin in questo caso delle cripto del mercato in generale e l'andamento dell'inflazione e dei tassi della fed non è che è immediato che fin tanto che c'è una tipologia di comportamento e di approccio allora i prezzi continuano a scendere non è così semplice no c'è anche una componente di anticipazione una componente temporale ovvero il mercato che è fatto da me da te da tutti noi investitori cerca di capire no quello che secondo lui accadrà nel futuro e nel momento in cui tutti sono negativi sul futuro il mercato prezza già anche quello quindi non prezza il presente prezza anche il futuro se ci si aspetta un'inflazione galoppante per anni il mercato la inizia a prezzare prima non è che aspetta che passino gli anni e quindi ciò che accade è che abbiamo una depressione di prezzi immediata e questo vuol dire che il bottom non sarà nel momento in cui è finita la recessione nel momento in cui è finito il ramping up dell'inflazione magari cioè non è così semplice perlomeno di solito il bottom è prima del termine della recessione proprio perché c'è questa componente di negatività intrinseca nel mercato in queste fasi di sconforto estremo che viene prezzata proprio all'interno degli asset e quindi questo porta tendenzialmente ad un bottom anticipato rispetto al bottom effettivo della condizione economica quindi quando poi si ha la ripartenza bisogna tenerne conto e le situazioni come quella di oggi adesso sono curioso di vedere a fine luglio come che cosa accadrà e però ecco le situazioni come questa fanno capire no come il mercato sembra aver già apprezzato certe cose perché personalmente non mi aspettavo ecco una situazione di questo tipo una divergenza di questo tipo il supporto a 18.900 questo al momento il nostro supporto il nostro range low ha tenuto tac vedete abbiamo rimbalzato proprio lì e se questo supporto tiene adesso vediamo come chiudiamo la giornata vediamo anche la settimana come va a finire diamo tempo al mercato di digerire no questa situazione tra l'altro dovrebbe esserci anche la anche la bcs non sbaglio dovrebbe iniziare a intervenire in questo periodo devo informarmi se qualcuno di voi sa le date sa qualcosa di più lo condivida ma mi pare che sia nelle sempre in queste settimane insomma e iniziare ad alzare i tassi anche perché altrimenti l'euro qua diventa una la moneta del monopoli cioè tutto ormai il dollaro è l'unico che si sta rafforzando in una situazione del genere nonostante tutto poi infatti oggi se non sbaglio l'euro era sceso sotto al dollaro per alcuni minuti poi credo che abbia recuperato andiamo a vedere insieme ma il motivo presumo che sia si guardate abbiamo no abbiamo bottomato beh dipenderà anche dalla quotazione vediamo dov'è il 099 978 ieri anche e il motivo penso che sia cioè comunque un incremento dei tassi di interesse così forte di 100 punti base comunque va a creare squilibrio no anche internazionalmente tra le varie valute perché perché se da un lato tu hai una moneta che ti dà un certo interesse il cos'è 2, vediamo quant'è che sarebbe 2,5 2,75 e dall'altra il euro che è più debole quindi a minor potere d'acquisto e inoltre a zero come tasso di interesse diciamo che è più desiderabile il dollaro in questo periodo storico e quindi si creano questa questa fuga di capitali dall'euro al dollaro ed è la situazione un po' che stiamo vivendo dal momento in cui la fed ha iniziato questa politica di aggressività sui tassi no è questo e mentre la bce è stata ancora un po' lì a guardare c'è un po' di disparità di potenza tra le due monete comunque al di là di questo bitcoin mi sta piacendo per come si sta comportando è ancora fortemente correlato al nasdaq ve l'ho detto quindi non c'è ancora da gridare al miracolo ahimè c'è ancora una fortissima correlazione l'ideale sarebbe l'avere un po' più di indipendenza dall'inflazione ma anche dai mercati azionari americani e chissà magari a questione di tempo di maturità ve lo chiedo anche a voi cosa ne pensate a riguardo e insomma fatemi sapere anche la vostra opinione anche il resto del mercato è un attimino scosso nel senso che c'è stato un momento di flash dump proprio in corrispondenza col rilascio dei dati sul cpi ma poi diciamo c'è stato un recupero abbastanza generalizzato guardate la total market cap anch'essa rispetta il range nella quale si trova 818 billion di range low e invece 950 di range high e siamo veramente orizzontali quindi non c'è da urlare al recupero perché è ancora assolutamente presto però sapete che ci sono due cose differenti no in un in queste fasi di mercato ribassiste entrambe importanti la prima è dov'è il bottom le due domande da un milione di btc no un milione di satoshi la prima domanda è dov'è il bottom la seconda è quando when recovery no e le due cose sono molto distanti l'una dall'altra perché il bottom guarda guardiamo anche il passato che è sempre un caso studio interessante sul settimanale senza andare a impazzire troppo sui time frame brevi guardate esempio il il ciclo 2000 che ha culminato nel 2018 inizio 2018 e ha iniziato il bear market da lì no guardate dal top al bottom che è stato qua è passato allora andiamo a vedere range data da qua è passato è passato un anno ok quindi un anno dal top al bottom non non prendeteli come dati che devono riverificarsi è ogni ciclo è differente dal bottom al recupero è passato facciamo qua è di nuovo l'all time mai facciamo fino a un recupero quindi fino a qui due anni e sono arrivato fin qua no fino ad avere una struttura effettivamente rialzista perché abbiamo un high un higher low e un higher high quindi un recupero di fatto su su time frame settimanale un po' propagato no fin a finché eravamo qua non c'era ancora certezza di avere effettivamente una nuova struttura rialzista poteva andare a fare un altro high del genere poi a ribassare di nuovo non non era ancora un recupero effettivo quindi consideriamo questo e quindi abbiamo un bottom che dopo x e un recupero dopo 3x no quindi bisogna considerare anche questa cosa nel nell'andare a valutare l'andamento del mercato quindi potrebbe esserci che ne so un bottom adesso tra un mese tra due mesi e poi per altri 1 2 anni andare avanti senza particolari movimenti è questo che c'è da capire quindi ci sono queste due questi due punti cardine il primo punto cardine è il bottom che è il momento di massimo sconforto prezzato dal mercato che non per forza di cose coincide con l'all time low della condizione economica generale visto che adesso ciò che muove il mercato è la macroeconomia prima erano altri fattori nel 2017 non so cos'era perché era tutto un casino e basta adesso c'è questa situazione no che è il market mover per eccellenza quindi è sciocco ignorarlo però è anche sciocco pensare che c'è una correlazione parallela no c'è una una componente di anticipo e quindi la prima cosa è quel bottom lì la seconda sarà poi quando recuperiamo anche lì ci sarà da cambiare il sentiment che è un procedimento molto 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 più lungo quindi è molto più veloce andare a massima max pain quindi massimo dolore massimo sconforto poi c'è un po' tendenzialmente di moria no di aridità del mercato e poi c'è il recupero molto più lento queste sono le fasi alle quali andremo incontro quando è di piacerebbe anche a me saperlo ma ahimè nessuno ha il potere di prevedere tutto ciò l'importante è avere una strategia che tenga conto di queste cose di non pensare ecco che io no aspetto che finisca la crisi finisca qui finisca là perché probabilmente a quel quel momento il mercato avrà già apprezzato anche quello e magari è già ripartito consideriamo tutto questo quindi una strategia il più neutrale possibile a queste specifiche sovrapposizioni un po' forzate basta adesso non volevo farvi il pippone su su queste su queste cose qui e basta ta 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 dica l'alving a un punto cardine avete ragione anche voi non dimentichiamo l'alving nel 2024 però non dimentichiamo neanche quest'altra cosa che non per forza adesso è vero che c'è sempre un discorso di ciclicità no di un certo tipo su bitcoin guidata dall'alving perché è nel suo dna no questa ciclicità quadriennale tuttavia se ci sono dei driver esterni più forti dell'alving cioè l'alving è una riduzione dell'offerta quindi non è una cosa che agisce lì nel momento no agisce nel lungo periodo e dovrebbe essere già apprezzata più il mercato matura più gli alving futuri dovrebbero essere già apprezzati non è una cosa che dice oddio l'alving non lo sapevo non me l'aspettavo boom tutto pompa no cioè anche lì bisogna più il mercato è maturo più mi aspetto che lo prezzerà in anticipo pertanto non diamo troppo per scontato qualcosa che altrimenti poi non si verifica no tendenzialmente è è così è così poi 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 allora che dire io vi devo fare una piccola confessione allora beh innanzitutto non so se avete visto ieri le storie i tweet e che con young platform stiamo cioè loro stanno organizzando una cosa che è fighissima ho partecipato anch'io e vedrete dovrebbe uscire il video non vi spoilerò nulla ma il 20 di luglio quindi tranno molto quello sarà il bottom signal probabilmente da vediamo come andrà ma farà un sacco ridere quindi non perdetevelo e io ve lo spammerò dappertutto perché ci sarà veramente un sacco da ridere e poi e poi se ve le siete perse le storie non so se avete ancora tempo di recuperarle sul mio instagram su twitter vedete un tweet di ieri e vedete capirete tutto e poi ragazzi domani vi abbandono di nuovo quindi caricate gli short perché udite udite domani me ne scappo da domani a lunedì compresi al tomorrowland giusto per stare tranquilli no ogni tanto che tra gli sponsor c'è ftx che mi ha gentilmente invitato e che fai gli dici di no cioè ragazzi al tomorrowland non non è possibile mancare quindi non credo che ci vedremo live per i prossimi giorni ci rivedremo spero martedì se non ci rivedremo vuol dire che qualcosa è andato storto no scherzo ma seguitemi perché dai ci facciamo due risate vi condividerò qualche storia qualche cosa che vi fa vi strapperò qualche risata basta adesso torniamo on topic torniamo on topic sul su bitcoin e sulle cripto non facciamoci prendere da questi queste distrazioni che in bear market ci vogliono ragazzi altrimenti va che vita si fa ad estate con 50 gradi a guardare i grafici che scendono non è possibile ci vuole un po di distrazione allora bene 26 27 luglio prossima data importante per la fed per il pomc quindi vediamo un po cosa succede e come reagirà bitcoin anche se ormai visto che è prezzato qua adesso vediamo l'andamento anche di queste probabilità ma se già il mercato pensa 100 punti base e la reazione è questa insomma non mi fa mal sperare ma non voglio dire nulla andiamo avanti invece con la situazione ce fai quindi come sta andando le cose stanno andando le cose nel mondo ce fai ho visto che voyager ha e anche se non ho l'articolo sotto mano vi ricordo che l'avevo letto voyager ha detto che farà il possibile per far recuperare i fondi ai suoi utenti ma teme di non riuscire a poter far recuperare tutto quindi ahimè non benissimo adesso vediamo se ci saranno degli altri bail out altre situazioni o cose del genere ma sembra che voyager sia quello che se la sta passando peggio in questo periodo per via di three arrows capital che erano spariti ma sono ritornati sono ritornati hanno rotto il silenzio hanno pubblicato twittando delle mail che si sono scambiati con i loro liquidatori anzi qua è una una sopopera praticamente con i loro liquidatori che apparentemente avevano scambiato la loro buona fede con baiting quindi con un comportamento non so non non in buona fede non so neanche come come tradurlo esattamente baiting come come lo tradurreste cioè cosa come come lo contestualizzereste una cosa del genere beh sta di fatto che c'è stato in comprensione sapete che i liquidatori avevano detto sono spariti non collaborano e quanta trappola effettivamente ci può stare una una trassi un'esca e tra l'altro guardate qua gli star quer token warrants triarus capital tra i vari investimenti che aveva fatto c'era star quer che è il layer 2 un layer 2 di etereum che attualmente non ha token e quindi massive spoiler da parte di triarus capital star quer avrà il token bene buono a sapersi loro apparentemente hanno dei warrant quindi delle sorte di non so come definirli di dei certificati che gli danno diritto all'ottenimento dei token in quel momento e vediamo un po' cosa succederà perché potrebbero finire brutalmente dampati vediamo non so dovrebbe mancare ancora almeno un annetto per i token di 3d di star quer quindi non non c'è ancora da andare in fomo insomma però è interessante vedere come il trend del del fare token anche da parte dei layer 2 sia comunque un trend sempre attivo io vi dico la mia i token dei layer 2 non mi fanno impazzire non ho intenzione di espormici che siano optimism arbitrum star quer o altri non sono interessato perché voglio ancora vedere un po' qual è la loro evoluzione mi piace di optimism una cosa che è la governance bicamerale non so se avevate seguito che in sostanza non dà più in mano il potere di voto solo ai token holder cosa che a mio parere ha zero senso perché si va a centralizzare il potere di voto cioè la dao ai token holder secondo me è una burla uno scherzo no è inefficiente va a finire che ci sono tre o quattro whale che hanno la totalità del potere di voto quindi si si crea centralizzazione oligarchia questo nuovo modello picamerale va a introdurre da una parte si dà peso ai token holder dall'altra invece da da peso a chi partecipa attivamente no al progetto quindi si va sia un po più di skin in the game rispetto al solo detenere il token anche perché il detentore del token spesso in conflitto di interessi secondo me con l'effettiva buona riuscita del progetto magari a lui gliene frega di più che il prezzo pompi magari sul breve e capite che spesso non è la stessa cosa no e anzi poi c'è l'incentivo a dampare non io non credo nelle dao nelle governance token based no infatti non detengo nulla che si basa su un modello del genere e quindi anche i layer 2 voglio capire un po in che direzione vanno prima di andare a ad espormi eventualmente anzi semmai adesso mi espongo ai layer 1 sui quali vengono costruiti questi nuovi layer che mi auguro ovviamente crescano il più possibile perché così facendo danno più valore anche i loro layer 1 a proposito di nuovi layer 1 adesso sto andando in ordine randomico totale beh prima finiamo il discorso cefai celsius invece ha pagato altri debiti su ave perché lì non ci sono cavoli cioè una delle cose positive della defai è che non è che puoi dire no ascolta non è che te lo posso pagare in un po più di tempo non è che aspettiamo ancora un po introducendo ulteriori rischi chiaramente di insolvenza ma sulla defai tu o paghi o vieni liquidato non ci sono cavoli no e pertanto i primi debiti che vengono ripagati celsius è insomma sappiamo quali sono alcuni dei suoi wallet quindi si può seguire quelli che sono i loro movimenti e abbiamo visto vi ricordate il debito su wbtc da mezzo miliardo di collaterale bloccato stato un po alla volta ripagato su oasis che è la dap di dai di maker dao adesso ha pagato altri 800 milioni di dollari di debiti su ave soprattutto soprattutto in weth in ethereum wrappati e su compound ha pagato altri 50 milioni di dollari di debiti il tutto mentre ha arruolato un uno studio legale specializzato in ristrutturazione di debito e banca rotta quindi la trama si infittisce c'è da capire un po in che direzione vuole andare come mai sta pagando questi debiti con che fondi sta riuscendo a pagarli e sono curioso di capire magari dalla bocca loro io mi auguro che rompano sto silenzio che ha un comportamento assolutamente sbagliato da mantenere in una situazione di crisi come questa che rompano il silenzio e facciano capire che intenzioni hanno e qual è la loro effettiva situazione finanziaria il silenzio non lascia mai presagire nulla di buono quindi stiamo a vedere nel frattempo il mio scetticismo verso la cefai continua nel senso è un periodo storico come diciamo da da tanto tempo in cui è meglio non esporsi a questi rischi rinunciando ai rendimenti è sempre un tema di rischio rendimento in questo periodo il rischio è esacerbato quindi la domanda è vale la pena per quei pochi punti percentuali di apy esporsi a un rischio di perdere potenzialmente buona parte se non la totalità del capitale chiaramente in questo contesto la risposta è no poi nel momento in cui avremo più dati più certezze più trasparenza una situazione migliore si potrà ritornare no a rivalutare la situazione con un po più di dati alla mano e lo stesso vale per gli exchange minori ricordiamoci che anche gli exchange adesso non sono tanto sotto la lente di ingrandimento ma perché non c'è ancora stata la bank run di fatto magari non ci sarà mai e non lo so ma questi buchi vengono fuori nel momento in cui c'è la corsa ai prelievi diciamo no e quindi si vede se ci sono problemi di liquidità o no quanta riserva frazionaria è stata fatta poi allora parlavamo di layer one c'è un layer one che vale la pena tenere sotto controllo si chiama sui è una nuova blockchain che non è ancora neanche in test net andrà in test net ad agosto agosto ok quindi vedremo un po sarà quest'estate e che differenza allora qua in questo thread potete leggere un po tutte le principali caratteristiche ve lo avevo condiviso su telegram al tempo quindi se mi seguite su telegram l'avete già letto probabilmente bella per voi e è una blockchain sempre molto veloce molto scalabile molto efficiente con la particolarità di utilizzare move come programma come linguaggio di programmazione che è memory safe quindi meno memory intensive meno pesante da un punto di vista di ram ma da più possibilità di altri linguaggi di smart contract come ad esempio solidity poi qua vi spiega bene tutto il modello di 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 governance di tokenomics eccetera eccetera ci sono un po più dati anche sul linguaggio di programmazione move 10 miliardi di supply complessiva da distribuire che non si sa ancora quanto perché i documenti non ci sono ancora staking quindi sarà un proof of stake le gas fee saranno fissate a epoche quindi in sostanza per ogni epoca c'è una gas fee costante in base a domande offerta in quella specifica epoca lì quindi non è come solana che ha una gas fee flat sempre uguale ma non è come terium che ha la gas fee sempre variabile in base a domanda offerta è una via di mezzo ci sono delle epoche di 24 ore dove ogni epoca i validatori cambiano vengono ricalcolate le gas fee e vengono tenute vicine a questo reference price quindi gas fee stabili questa è una particolarità non da poco di sui ci sono tutta una serie di caratteristiche cose vi consiglio anche se vi interessa di leggere la documentazione ufficiale ripeto ad agosto ci sarà la test net incentivata quindi vedremo vi dico già che non ho intenzione proprio per quello che è il mio approccio di investirci subito neanche se dovesse uscire nei prossimi mesi ma perché semplicemente è una cosa nuova quindi prima deve passare un po di tempo no deve nascere crescere trovare il suo posto nel mondo sembra tutto bello all'inizio ma poi è la proof of market no nel il momento in cui arriva viene usato oppure no è lì che si definisce la reale utilità della chain un altro layer one insomma è un mondo molto competitivo quello dei layer one è particolarmente agguerrito quindi trovare cioè nascere adesso e trovare la propria fetta di mercato potrebbe non essere semplice tuttavia non dimentichiamoci che storicamente i migliori progetti nascono in bear market avea nato in bear market non mi ricordo quali altri ma molti sono nati proprio ora che è il momento in cui chi sviluppa sviluppa e chi invece non sviluppa ma vuole solo cash grabbare di solito sparisce ultimissime cose veloci veloci poi passo a voi alle domandozze questa era una bella l'analisi on chain di di questa settimana di glass node non dice nulla di come si può dire di illuminante interessante il grafico delle posizioni dei miner guardate hanno iniziato a vendere i miner quando eravamo sui 30.000 in questa zona e ha intensificato la vendita prima dell'ultima leg down guardate proprio in questa zona qua e poi adesso è ancora in net selling quindi stanno ancora vendendo i miner ma in maniera minore tendenzialmente come potete vedere cioè si alternano i periodi di vendita e di accumulazione i miner minano producono bitcoin e possono detenerli accumularli oppure venderli no chiaramente devono pagarsi le spese quindi dovranno avere un entrato un cash flow fisso però il resto possono decidere di tenerlo magari reggiandolo con dei future short per esempio oppure di venderlo banalmente per cash flow puro la tendenza è che durante le fasi estremamente rialziste oppure laterali in un sentiment che è di possibile ribasso quindi quando c'è negatività è quello di scaricare mentre di caricare nei momenti in cui ci si immagina un possibile upside adesso i miner hanno un sentiment molto negativo e qui parabile a quello del 2019 quindi dopo il secondo dopo il lower high dal massimo del ciclo precedente dove c'è stato lo scarico massimo che è sui 5.000 bitcoin al mese non siamo arrivati a tanto siamo arrivati a un picco di 4.400 bitcoin al mese in selling pressure dei miner adesso siamo a 1.350 guardate il bilancio complessivo dei miner a questa linea arancione è calato da 74.800 a 66.900 sono stati venduti un netto di 7.900 btc se lo paragoniamo con il passato vedete che delle dampate del genere ci sono state proprio appunto nel secondo lower high del 2019 e qua c'è stato un acquisto fotono un'accumulazione fotonica da parte dei miner e poi un damp fotonico non so se è un'anomalia del dato ma vedete che di ogni tanto insomma ci sono queste fasi di scarico e l'unica di lunghezza equiparabile guardate che per così tanto tempo c'è stato scarico è proprio il periodo di la seconda metà del 2019 in sostanza gli altri periodi di scarico tendenzialmente sono durati meno notare anche questo periodo di scarico in corrispondenza al primo il tai mai che i miner hanno sempre sanno sempre qualcosa di più di noi allora ultima cosa shanghai la città di shanghai sempre nel nell'inserirsi nel nel topic del metaverso no come un qualcosa di interessante di potenziale per il futuro shanghai vuole coltivare un'industria da 52 miliardi entro il 2025 proprio nel metaverso più di 100 aziende sono incluse in un piano che è stato redatto proprio dalla municipalità di shanghai per andare a mettere la sua città in un posto di assoluta di assoluto pionierismo nel settore vediamo 52 miliardi nel 2025 diciamo che non è proprio un obiettivo così rapido e indolore ma insomma vedi anche che riesce a fa poi ultimissima cosa poi passiamo a voi abbiamo popolato guardate il menu trading nel nostro sito web dove trovate in sostanza quattro sezioni basi analisi tecnica strategie e trading automatico vi lascio poi il link al sito nella descrizione se ancora non lo avete visitato in sostanza il l'obiettivo di questo sito è dare contenuti gratuiti di ogni tipo sull'investimento un po di demenza che mi caratterizza giorno dopo giorno sui fondamentali sull'investimento sul trading il tutorial delle varie piattaforme quindi come funzionano e insomma i loro rischi i loro pro i loro contro le notizie ed adesso anche il trading vedete abbiamo le basi dove ci sono le cose da sapere proprio per iniziare trading view come funziona i tool fondamentali la price action cos'è la leva i derivati lo short sell il margin trading un po di definizioni analisi tecnica sono tutti i vari indicatori supply and demand week of gun elliot tutte le teorie più importanti dell'analisi tecnica strategie quindi metodi proprio operativi trading plan e trading journal e poi abbiamo il trading automatico quindi bot andremo a vedere un po come funzionano tutti i principali bot esistenti è un un'area ancora in da alimentare col tempo insomma l'alimentare ma adesso ci sono già 31 articoli e quindi dateci tempo poi di metterne altri comunque è sempre dinamico no il nostro sito cresce giorno dopo giorno anche se non ve lo spammo in continuazione ogni tanto dateci un'occhiatina che potreste trovare qualcosa di nuovo ragazzi ora tocca a voi tocca l'inghilterra quanto avanti perché cosa succede cosa succede in inghilterra cosa mi son perso viva la sterlina cosa è successo in inghilterra a per per il tizio lì che si è dimesso come si chiama il primo il primo ministro boris dio boris allora 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 che dire che dire ma sto pump così a caso è che il pump così a caso cioè non è proprio a caso ne abbiamo parlato prima in realtà è un po dovuto forse all'aver già apprezzato il possibile quella possibile fase di discesa no e l'aumento dei tassi può essere correlato al rafforzamento del dollaro senz'altro senz'altro perché il il rafforzamento del dollaro c'è la domanda per il dollaro è maggiore se si hanno tassi di interesse maggiore no soprattutto comparandolo con le altre monete il video di near è in preparazione ragazzi è in preparazione lo giuro domani tra l'altro vi ho vi ho come si dice vi ho preparato già il video nonostante sarò via appunto il video sarà la seconda puntata del nostro corso di come investire investire in come investire in cripto quindi quel mini corso dove andiamo a vedere un po il buon senso necessario era giusto per puro dialogo riferito anche a quanto sta succedendo in europa con l'euro gas eccetera si è effettivamente comprendo comprendo l'euro pegato al dollaro come lo vedi è un euro debole e un dollaro forte è così c'è meno domanda per l'euro più domanda per il dollaro cosa ne pensi dello shiba ci potrà essere l'exploit per dicembre 2022 oddio che 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 non comprendo non comprendo allora 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 grayscale we are constantly assessing the digital asset landscape before we commit to include an asset ah ok hanno aggiunto apecrow e knc knc e kyber kyber hanno aggiunto nei loro fondi nei loro insomma sì panieri di asset e coin cro e knc interessante interessante allora la prossima volta mi prometti che ti fai la foto con me e non mi tiri il bidone come al cripto expo ragazzi ho fatto la foto con tutti a cripto expo anche quando volevo volevo solo buttarmi per terra e dormire io vi 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 cioè vi amo troppo per non far la foto con voi non ce la faccio dove ti possiamo incontrare al prossimo evento dunque il prossimo evento secondo me sarà a naso per il momento amsterdam quello a ottobre secondo me dovrebbe essere qua non che io sappia non c'è niente di degno di nota prima quindi io direi ad amsterdam al al bitcoin bitcoin 2022 quello insomma quello l'equivalente di miami europeo che secondo me è molto molto figo e poi 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 allora conviene anticipare o posticipare il ribilanciamento bisogna seguire la strategia ricordatevi che se avete una strategia e non la seguite perché decidete di cambiare qualcosa state cambiando la strategia cioè tenetene conto se si fa sento tanti che dicono ma conviene mettere in pausa il pack non è più un pack poi no se lo si mette in pausa il plan b a lugano ottobre quello è subito dopo è subito dopo amsterdam mi pare la settimana dopo ci vedremo anche lì assolutamente per chi vuole iniziare a investire in bitcoin a lungo termine un buon momento è adesso o meglio aspettare dopo il 28 luglio ma guarda io ti dico la verità non è che il giorno ti cambia la vita un giorno o l'altro l'importante è avere una strategia che non si basa su un unico acquisto perché quello ti espone sia al prezzo specifico quindi l'importante è proprio andare a avere una strategia di lungo termine nel mini corso ci spiegherai come fare il ribilanciamento nella terza puntata si il ted talk when il ted x in realtà sarà il 3 di settembre a barletta quindi quello sia un altro appuntamento però beh quello non insomma io parlerò per tipo 8 minuti quindi non è dedicato alle cripto ecco però interessante c'è anche tipo io toby io lo seguo personalmente quindi molto figo e però a maggio un giorno ha fatto la differenza è vero ma sai come ti fa la differenza un giorno in dump te la può fare in pump cioè è impossibile prevedere il futuro bisogna fare i conti con questo no quindi cercare di dire io penso che accadrà questa cosa quindi aspetto non aspetto potrebbe andare ad avere un risultato che buono o non buono sai è l'incertezza il futuro è incertezza quindi bisogna filtrare la componente temporale il più possibile il più possibile secondo te è meglio costruire le basi per un progetto in bear market o in bull market ma cioè sicuramente in bear hai più tranquillità per lavorare in bull ti tirano addosso i soldi quello è quello è quello è allora dunque c'è un nuovo exchange ad amsterdam talex ci lavoro sarà il più grande competitor di deri beat più veloce con fi più basse fornisci il back end per future sia beat phoenix che a beat stamp c'è la test net live grazie interessante interessante butterò un occhio un video su umami quando ma sai che c'è un articolo su umami se ti interessa allora dovrebbe essere su defy umami dov'è che è su arbitrum se non erro dunque c'è la defy aspettate facciamo usiamo il tasto cerca ogni tanto allo umami eccolo qua umami finance e c'è il pippone di otto minuti se ti interessa che spiega come funziona sarà interessante questo volt delta neutral che va su glp ma insomma non ne parleremo oggi non oggi non oggi la maglia cipini non page e poesia e sia sì sì ho visto puri dopo ho già letto grandissimo grandissimo non ci parli più di defy ma in realtà guardi i nuovi protocolli interessanti ne abbiamo parlato abbiamo parlato di gmx abbiamo parlato di umami abbiamo parlato di cos'era l'altro mamma mia non mi ricordo più è che adesso sai in questi periodi bear non è che ne scompiù così cioè non c'è più così tanto da dire ecco è quello il fatto vale di più la pena adesso focalizzarsi sulla macroeconomia ferro si ferro protocol sulla macroeconomia che su su quello perché cioè insomma il mercato è guidato da quello no bisogna dare più importanza a ciò che è realmente importante ma guardate io qui ho il tool per augurarci il bottom che è un bel cornettino porta fortuna non si sa mai non si sa mai io non sono un tipo superstizioso ma non si sa mai allora 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 crypto index su bitpanda cosa ne pensi penso che siano un ottimo strumento per soprattutto chi non ha vuole un minimo sforzo e la diversificazione bitpanda poi è un buon exchange insomma è compliant con mifid regolamentato in europa offre ottimi servizi quindi io lo reputo insomma tra quelli più validi poi nel senso sapete che la sicurezza totale non esiste mai però insomma tutte segue tutte le normative regolamentato e quant'altro quindi nel senso è uno di quelli come si dice di quelli istituzionalizzati istituzionalizzati poi 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 ma perché quel mirino sulla faccia perché in realtà io da buon amateur utilizzo il la fotocamera del telefono come diciamo input video e così è proprio in modalità fotocamera tac e via quindi siamo veramente a livelli di amatorialità altissimi poi 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 come faccio a investire in oro così bam investire in oro ci sono tanti modi ci sono gli etf ci sono c'è l'oro fisico c'è pax gold che è abbastanza peggato all'oro non è male pensi di fare un video dove spieghi nel dettaglio come quando operare al meglio sui futures vorrei usarli per fare trade speculativi sia di copertura ma non voglio farmi troppo male secondo me ti conviene prima capire come funzionano bene i futures in generale perché usare i futures in quel modo lì senza sapere quello che accade direi che è un attimino di un attimino rischioso hai venduto anche il microfono non ho perché è basso il volume dai ragazzi non fatemi prendere male lo alzo lo alzo tac meglio 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 cosa sta succedendo a curve convex ma guarda secondo me hanno subito in maniera atroce il bear market come tutte le altcoin e il mercato probabilmente si starà rendendo conto del fatto che sono comunque sottoprezzati no cioè alla fine io sono sempre convinto del valore che hanno il motivo per cui li avevo escluse sapete che era nella mia fettina spec il motivo per cui li avevo esclusi era semplicemente un discorso di minimizzazione del rischio no in un bear market che penalizza tantissimo le altcoin ma sono due protocolli che comunque hanno i loro casi d'uso nel senso sono tra i pilastri della DeFi quello su quello non è che ho cambiato idea tuttavia il problema è proprio un discorso di rischio no intrinseco nelle altcoin minimizzare l'obiettivo era minimizzare film da vedere sulla finanza ho già visto The Big Short e The Wolf of Wall Street io ti consiglio ti consiglio come si chiama Inside Job che è un documentario in realtà è un documentario e parla della crisi del 2008 in maniera molto molto dettagliata ed è molto molto fatto bene consigliatissimo Margin Call anche consigliato pure quello la serie Diavoli divertente anche quella assolutamente divertente e le opzioni su Binance non sono accessibili come mai è perché in italia i I derivati non sono ancora accessibili non sono ancora compliant tu quindi hai deciso a priori di tirarti fuori da questo attimo matto del mercato no 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 io non sono fuori io ho sempre la mia allocazione ho sempre la mia allocazione e basta e il resto è cioè lo ribilancio e quant'altro e quindi no il discorso della della riduzione delle altcoin era proprio un discorso di riduzione del rischio in vista dei prossimi mesi cioè non una cosa di breve non una cosa di breve era proprio cercare di compattare il più possibile il portafoglio tutto lì tutto lì e dunque dunque nel futuro pensi di rendere accessibili sul tuo sito le traduzioni dei white paper dei progetti crypto più importanti ma è un lavoraccio è quello un lavoraccio mica mica da poco mica da poco non lo so non ci avevo pensato anche perché ci sarebbe veramente un lavoro da amanuense incredibile bitcashback come procede guarda settembre si lancia la versione nuova e è operativo è già però insomma lo stiamo ristrutturando come come sai e a settembre lanciamo proprio la versione nuova quindi lì sarà la svolta sarà assolutamente la svolta leggi gli articoli dei tuoi seguaci se sì dove posso inviarti ah hai scritto un articolo hai scritto un articolo allora dunque dove posso inviartelo dunque 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 un articolo stavo pensando se via mail o ma si prova ma mandalo via mail a support chiocciola thecryptogateway.it direi proprio di che lo puoi mandare lì lo puoi mandare lì mandalo pure dai mi fa piacere e magari lo se ci dai il permesso lo pubblichiamo anche se se è valido e benone benone direi che google google toll per il traduttore google toll hai mai pagato qualcosa in btc qualsiasi cosa di tutti i giorni sì sì mi è capitato mi è capitato di come si dice di di acquistare in btc cos'è che era a parte a miami anche ad esempio un cocktail lì alla al bitcoin miami 2022 e basta questo cioè in realtà varie cose una pizza una volta con lightning network e poi che altro i ticket di della della conference di miami ci sono un po' di cose però di solito ecco i btc non mi piace molto spenderli ad essere sincero grande rover x 95 che si è di nuovo abbonato grazie su ftx non si può usare più del 2 per di leva e i nuovi utenti se non sbaglio proprio per pizza 18.000 btc no 20.000 e il come si dice il la leva cioè i nuovi utenti per normative mi feed hanno una leva massima 2 per a meno che non completino il questionario che deve provare che hanno sono investitori professionisti e allora si sblocca la leva questo è un po il disco un cocktail che tra due anni ti sarà costato un k speriamo di no ragazzi speriamo di no speriamo di no ma cerchi sviluppatori avere intorno gente informata interessante come te sarebbe fantastico guarda al momento sviluppatori sviluppatori no perché sono le prime persone che abbiamo cercato nel credo che è la colonna portante però se dovessimo guardati ti considero assolutamente assolutamente bene ragazzi io direi che hai un pensiero su quale potrebbe essere il bottom di btc li cerco io guarda c'è qualcun altro che gli sviluppatori non c'è pericolo che nessuno li cerchi bottom di btc non ne ho minimamente idea con tutta onestà ragazzi non ne ho la più pallida idea grande mazluca89 che si è abbonato anche lui con prime fantastico e basta basta dai se hai fatto una certa se hai fatto una certa io vi il merge apprezzato è il merge apprezzato il fatto che non si sappia l'esito quindi apprezzato forse in negativo addirittura non saprei c'è tanto di quel timore che la metà basta amici vado a fare la valigia quindi noi ci rivediamo ci rivediamo domani esce la seconda puntata del l'investire in bitcoin quindi parliamo di come costruire un portafoglio un po di come si dice buon senso poi ci rivediamo più tardi in realtà perché alle ore 21 né più né meno siamo dai ragazzi di 0x business a parlare di lavoro in cripto quindi una live diversa dal solito cioè non parliamo di prezzo di mercato di notizie ma parliamo di appunto il lavoro nel settore cripto un po la storia la mia storia come vedo un po il settore parlando con loro che fanno quello la loro community tratta lavorare nel settore cripto quindi vi consiglio di seguirli a prescindere guardi vi scillo anche più che volentieri il loro telegram perché sono veramente dei grandi è molto interessante sono discorsi un po diversi dal solito che insomma è assolutamente bello sentire tac eccoci qua eccoci qua e posterai anche sul tuo canale non credo perché altrimenti vi do un overflow di roba troppa roba e basta noi ci rivediamo domani video magari se riesco a farvi un videino pillolina o la ivettina da là io nel dubbio il pc me lo porto sono malato c'è poco da fare altrimenti ci rivediamo martedì io sarò di nuovo operativo martedì sempre che insomma mi sarò ripreso amici di nuovo vi auguro una buona serata a più tardi spero che ci sarete e alla prossima